Benvenuti al meteo di Telenuova, domani è domenica 29 settembre, la chiesa celebra i santi Michele, Gabriele e Raffaele. In arrivo il ciclone Nefertari, piogge temporali in arrivo al nord ovest, Alpi, poi Toscana, Alto Lazio, peggiora su Forte, su tutto il nord, meno su Ferrarese e Romagna raggiunte dopo, peggiora con temporali anche dalla Liguria verso la Toscana e altri sul nord Sardegna, piogge più diffuse dal pomeriggio verso la sera al centro nord, fino al Casertano in Campania e Molise, con forti temporali la sera sul Lazio, meno colpito la Scolano e l'Abruzzo, temporali più diffusi al nord e Toscana e la notte sul nord-est specie sul Veneto, temporali sul Lazio e Umbria verso la Campania nella notte. Una perturbazione atlantica ha raggiunto il Mediterraneo e si porterà verso la Campania tra il pomeriggio e la sera, quando è atteso un deciso peggioramento del tempo. Al primo mattino quindi il cielo sarà parzialmente nuvoloso, poco nuvoloso, tendenza al rapido aumento della nuvolosità con piogge, specie tra il pomeriggio e la sera. Temperature in diminuzione, venti moderati da ovest-sud-ovest, mare mosso.